La zalea della ricerca di Fondazione AIRK torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Un fiore speciale che in 38 anni di vita è diventato il simbolo della festa della mamma ed un prezioso alleato per la salute al femminile. La zalea della ricerca ha infatti permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro, risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. 20.000 volontari AIRK consegneranno la zalea a fronte di una donazione di soli 15 euro. Insieme verrà data anche la speciale guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e tre salutari ricette firmate dall'ambasciatrice Antonella Clerici, dalla foodblogger Monica Papagna e dallo chef Stefano Sforza. Francesca, curata per un tumore alla tiroide e la sua bambina Cecilia, sono invece le testimoniale di quest'anno e protagoniste degli spot televisivi. Dopo due anni di pausa, sabato 7 maggio, le azalee di AIRK si potranno acquistare di nuovo anche in piazza Mauruzzi a Tolentino, dove saranno presenti i volontari della locale fondazione. Le azalee si potranno acquistare fino ad esaurimento scorte anche domenica 8 maggio.